Grazie 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 mele, una la regalava a chi non ce l'aveva senza che gliela chiedesse. Questa era una domanda di mele. Grazie donne per quello che ci avete insegnato. La premiazione mettiamo a disposizione simpaticamente una serigattia di un artista romano, la rivista e un libretto di parole parassi romanesche. Allora vi voglio un altro applauso bellissimo per la nostra. Prima di iniziare però la padrona di casa anche a lei abbiamo una serigrafia di Roma. Una serigrafia lasciata al grande numero che è assente però un applauso. La parola io è abolita e la parola è noi. Noi come ammigazione di gruppo, bravo. Scriviamo tutti per questo. Grazie. Inaspettato. Mi fai una foto? Inaspettato. Io sono veramente emozionata perché tutto è inaspettato. Grazie. Un discorso complessivo, cumulativo. In tutto. E tra la foto si la pubblichiamo. La prossima numero, tutto. La rivista, il prossimo donna, simpaticamente al costo di un sorriso, due pagine sulla rivista alla scuola. Grazie. Buonanotte. Grazie. 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 Grazie a te. Ci hai dato delle emozioni gigantesche. Ci provo. No, no, ci sei riuscita. Grazie. Contenta. Che faccio? Questi sono... Ah, questo è il nuovo, non lo conosci? Questo è un dipinto questa settimana proprio perché è parola di... Senta cose nuove, già. Senta cose nuove, già. Senta cose nuove, già. Non so se lo vetturo.